Musica Da Gela, il polo industriale più sud dell'Europa, Transfrigor Youth Italia, Sotir, l'associazione italiana di imprese di trasporto, ha lanciato l'ultima chiamata all'Italia e all'Europa. Contro la crisi dei mercati, la concorrenza internazionale, la Sicilia sia hub del Mediterraneo. Una vera piattaforma intermodale con strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, crocevia dei mercati dell'Europa che guardino ai paesi frontalieri e alle economie emergenti. Sono i temi che sono stati affrontati nei locali dell'hotel Peretti in occasione del convegno nazionale. Il sottosegretario dei trasporti, Simona Vicari. Il tavolo dell'autotrasporto è stato riconvocato per giorno 1. Sarà un momento di confronto quasi definitivo perché il governo sta puntando moltissimo sulle intermodalità, sullo sviluppo delle nostre infrastrutture, sui sistemi portuali. Abbiamo incentivi che riguardano lo spostamento delle merci dalla gomma al mare, che sono destinati per circa il 70% tutti i latotrasportatori. Incentivi per chi sposta dalla gomma al ferro e quindi alle ferrovie, a chi investe in mezzi assolutamente più ecologici, chi investe in informazione. La Sicilia, in tutto il mondo e anche in Italia, è vista come una grande occasione. La Sicilia è un abbo nel Mediterraneo assolutamente naturale. Siamo a Gela, non a caso, per dare un significato importante anche di consapevolezza a questo territorio. Credo che la politica regionale sia stata abbastanza sorda e abbia trascurato invece tutta una serie di attività legate alle infrastrutture. Costo del lavoro, concorrenza estera e carenze di infrastrutture. Ne ha parlato il segretario nazionale della SOTIR Claudio Donati. Io credo che questo settore ha bisogno di regole che in parte ci sono, in parte vanno riscritte, ma anche per le regole che ci sono poi occorre che vengano fatte rispettare. Non solo per i trasportatori, ma anche per chi con i trasportatori lavora, intendo la committenza. Quindi ci aspettiamo che il governo, lo Stato, non rimanga sostanzialmente inerte come molto spesso succede, ma faccia un po' una scelta di campo nel senso di assicurare che le regole che vengono richieste a tutti, a partire dai trasportatori, vengano richieste, il rispetto delle regole venga assicurato anche da chi dà il lavoro agli autotrasportatori, che spesso viene contrattato e definito a condizioni francamente oltre la legalità. Comandante, la zona che lei dirige è una zona estremamente interessante da un punto di vista portuale. Quali sono state nella sua carriera a comando di questa zona, le questioni risolte, quelle da risolvere più interessanti? Diciamo che la direzione marittima di Palermo, che abbraccia un territorio molto vasto, che va da Gela fino a Cefalù, presenta delle peculiarità diverse a seconda delle zone. Indubbiamente le portualità particolari e articolate si configurano soprattutto su Palermo, Trapani, e Gela e Porta Empedocle. Gli altri sono porti, diciamo così, fra virgolette minori, che hanno delle importanze per quanto riguarda lo sviluppo turistico dati porto, ma nella complessità, grazie all'opera dei vari comandanti e dalla regia messa in essere della direzione marittima, il nostro programma, che abbraccia tutto il territorio, ci può condurre verso soluzioni di problemi, che sono quelli soprattutto del miglioramento infrastrutturale dei vari porti. Stiamo lavorando in questo senso, abbiamo fatto un documento programmatico che analizza tutte queste problematiche, ma che abbraccia anche settori diversi da quello che è l'aspetto solo, diciamo così, infrastrutturale portuale. I nostri compiti sono diversi, quindi ci lanciamo verso forme di tutela dell'ambiente, la pesca, tutto il settore amministrativo per quanto riguarda la gestione del centro di mare, e poi siamo in una terra dove il problema dei migranti è importantissimo. Quale idea si è fatto per poter quantomeno arginare se non risolvere il problema degli sbarchi, per farlo in sicurezza? I nostri equipaggi hanno una capacità tecnica di intervento e di professionalità elevatissima. I nostri mezzi sono disponibili perché è un nostro dovere a 24 ore su 24 ore, e quindi fin quando noi altri siamo chiamati a salvare queste persone, siamo sempre sul pezzo e faremo questo lavoro, come dicevo io, con tanta professionalità, ma soprattutto con grande cuore. Si è parlato di papillomavirus ed in particolar modo della prevenzione vaccinale e delle infezioni, nel corso dell'iniziativa promossa dal dirigente scolastico dell'Istituto Paolo e Milioni Giudici, Giovanna Valazzolo, si tratta della conclusione del progetto Nuova Genitorialità. Le famiglie hanno bisogno di essere informate. Questo rientra nel progetto più generale, quello sulla nuova genitorialità che abbiamo portato in atto tutto l'anno. Abbiamo incontrato la magistratura, le forze dell'ordine, esponenti della cultura. Oggi ospitiamo la medicina e soprattutto la prevenzione per i vaccini, perché molte famiglie non sanno, non perché, ma perché non sono stati informati della necessità di vaccinare i propri figli, maschi e femmine, contro il papillomavirus. Oggi lo sanno. E spero di sì. A relazionare sono stati Salvatore Migliore, direttore dell'Unità Operativa di Epidemiologia delle Malattie Cronico-Degenerative del Distretto Sanitario di Gela, Luciano Di Vita, responsabile del servizio vaccinazione del distretto di Gela e Emanuela Bartoli, dirigente medico di ostretrice e ginecologia dell'ospedale Vittorio Emanuele. La vaccinazione contro il papillomavirus è una vaccinazione che è stata introdotta circa da dieci anni. È molto importante in quanto è un vaccino che va a proteggere da un'infezione virale data da un papillomavirus che purtroppo determina delle patologie tumorali. Quindi sia nella donna che nel maschio è importante, anche perché il maschio a volte è portatore esatto del virus, quindi inconsapevolmente lo trasmette alla donna. Ecco perché la vaccinazione già da due anni nella regione Sicilia è stata estesa anche al maschietto adolescente di undici anni. Questo perché? Per bloccare la trasmissione del virus. Dunque è importante vaccinarsi. Molto è importante vaccinarsi. Abbiamo quest'anno fatto un programma esteso, soprattutto toccando vari aspetti dell'educazione alla salute e sicuramente l'aspetto più importante è quello della vaccinazione. In particolare abbiamo parlato della vaccinazione relativa alla prevenzione del tumore alla porzio. Questo tumore oggi è prevedibile attraverso una vaccinazione che fra l'altro è gratuita in determinate fasce di età. Quindi basta venire presso l'ufficio di igiene, settore vaccinazione e poter essere vaccinati gratuitamente. Comandante, da quando si è insediato lei ha una spina nel fianco che è il porto rifugio. Ricordo molto bene la prima intervista dal suo insediamento nel corso della quale affermò che prima di andare via da questo porto, da questo ruolo, da questo mandato così importante, il suo sogno concreto era quello di vedere riaperto e fruibile il porto rifugio di Gela. Ce la faremo? Bene, intanto allora dobbiamo dire che sono stato riconfermato per un ulteriore anno, quindi mi dispiace ma ormai sono cittadino gelese a tutti gli effetti e ne sono onorato. Per quanto riguarda il porto rifugio, più che una spina il porto, è una spina il problema di non poter riuscire a terminare determinate procedure che abbiamo instaurato già due anni fa, come diceva giustamente lei. Però si è aperto un grande spiraglio e questo devo dirlo quasi in anteprima, in quanto l'ultima riunione che abbiamo fatto in protezione civile, grazie all'ingegnere Foti, poi era presente anche il comune, erano presenti Caltanissetta, Autorità e quant'altro, abbiamo stabilito che nel giro di 4-5 mesi al massimo dovrebbero iniziare i lavori di escavazione. Quello che manca è fare la caratterizzazione, anche se penso che non ci dovrebbero essere problemi, visto che ormai la raffineria non crea più nessun tipo di inquinamento e quant'altro, se mai ne abbia creato prima. e quindi in 4-5 mesi finalmente vedremo realizzato il nostro sogno, vedremo finalmente un porto, il nostro bel porto funzionante. La novità assoluta è che non soltanto si escaverà il porto a meno 4 metri, quota 4 metri, ma è previsto l'allungamento del braccio di un centinaio di metri, di modo che non si insabbi più il porto. Un'altra novità importante è che entro il 15 giugno iniziano i lavori per lo smantellamento delle due camere cocche. Questa era un'altra spina che avevamo insieme, perché era il benvenuto che mi è stato dato a Gela dalle due camere cocche, sinceramente non è esaltante, senza nulla vorrei togliere la loro funzione, però come paesaggio devo dire che non è il massimo. Quindi anche questi lavori, c'è stata presentata la richiesta da parte della raffineria, di taglio delle camere per essere trasportati in un altro luogo. Convegno e cerimonia di chiusura per il progetto I Castelli del Nisseno, tra eredità culturali e visioni territoriali, ideato e organizzato dal Lions Club Caltanissetta dei Castelli, preseduto da Fabiola Safonte. Nel circuito dei Castelli anche il Castelluccio e Granae Ducali di Gela. Lancia senza dubbio positivo, ad oggi e lo sarà, spero anche dopo il convegno e nei mesi futuri, si è trattato di un progetto molto articolato, complesso, ambizioso, che ha visto coinvolti diverse realtà, un comitato scientifico con studiosi di calibro nazionale e internazionale, le quattro università, diverse società scientifiche, le dodici amministrazioni comunali e le dodici proloco dei comuni interessati dei quindici castelli, il club è impegnato in prima linea, quindi in un'azione di servizio verso il territorio nell'anno del ventennale dalla propria fondazione, in cui abbiamo deciso di non essere autoreferenziali, quindi celebrando noi stessi come solitamente si può fare in questi casi, ma di spendere energie, competenze e professionalità a servizio del territorio in un progetto che vuole mirare alla promozione e alla valorizzazione dei territoriali, sì delle opere fortificate presenti, ma anche del contesto, del paesaggio e degli aspetti rurali, essendo comunque tutti i castelli posizionati in quelle che sono le aree interne. Quali possono essere le nuove prospettive di sviluppo economiche nel sud dell'Italia, in particolare nel territorio di Gela e Caltanissetta? Io a partire da questo convegno di oggi mi rendo conto e lo vedo proprio direttamente che questo elemento dei castelli può diventare un punto importante di attrazione per il territorio, punto di posizionamento del territorio nelle reti della competizione globale che si fa sempre più forte. Veniamo da una cultura economica novecentesca, per cui l'economia si sviluppa soltanto attraverso la produzione di beni materiali. Oggi sappiamo che la produzione di beni materiali è una parte, sì, importante, ma non è sempre fondamentale in un'economia del territorio. L'identità storica del sud Italia per qualche decennio forse si è smarrita. Sono state cercate delle forme di economia forse lontane dalla vera identità, dalla vera anima dell'Italia, in particolare di questo territorio. Secondo lei è possibile fare della storia gloriosa di questa terra nuove prospettive d'economia? Mi occupo di storia perché sono molto interessato al futuro. Il passato non è soltanto un ritorno a qualcosa che non c'è più, ma è il contenitore di tanti ingredienti che ci servono a progettare un nuovo modello di sviluppo oggi, che è quello novecentesco e chiaramente in crisi. È un modello che ha progressivamente marginalizzato, espulso, escluso tanta parte del nostro territorio, a partire dalle aree interne, dalle aree rurali, dalle aree montane e collinari che costituiscono i due terzi del nostro paese. Ci siamo concentrati sulle aree di polpa, sulle città, su poche coste. È il tempo dunque di tornare a pensare allo scheletro di questo paese, alle sue aree più periferiche, rugose, ma importanti. Siamo qui per disputare questa partita di calcio tra l'Istituto Luigi Sturzo e l'anti-racket. Scopo della partita naturalmente è quello di creare un messaggio, messaggio della legalità, quindi rispetto alle regole, convivenza civile e questo è importante perché il gioco del calcio si presta a questo tipo di obiettivo. Tra l'altro è condiviso anche dalla scuola perché già in passato ha realizzato diversi progetti. Diciamo che insieme a questo scopo della partita è anche la solidarietà, perché viene raccolto un euro a ragazzo, quindi la somma verrà poi devoluta all'Associazione Misericordia, che la devolverà insomma alle famiglie bisognose, a coloro i quali hanno problemi. Quindi con questa partita raggiungiamo questi due scopi, solidarietà e messaggio della legalità. È uno spettacolo oggi vedere in campo i giocatori dell'istituto commerciale e dell'alberghiero, perché sono animati dallo spirito veramente che hanno della legalità e quindi assieme alla nostra associazione anti-racket, che poteva esserci di meglio se non formare queste due squadre all'insegna proprio del rispetto delle regole. Quindi vediamo in campo i nostri giocatori, li sto vedendo onestamente un pochettino appesantiti. Però devo dire che l'istituto commerciale e l'istituto alberghiero hanno non solo ragazzi preparati, ragazzi veloci, certo giovani, ma anche loro professori devo dire che veramente sanno giocare. Quindi oggi questa giornata la vogliamo dedicare proprio a tutti coloro che devono rispettare le regole tramite lo sport, che lo sport è legalità e non discrimina. Questo è ormai il nostro slogan. L'ultimo saldo mi hanno fatto a dicembre. Sono passati molti mesi, da allora ad oggi cosa è accaduto? Niente, stiamo cercando di sopravvivere. Non abbiamo altre alternative sindacate, ormai è solo un bla bla bla. E alla politica siamo andati a sentire i politici e loro non hanno risposte per noi. L'indotto dello stabilimento Eni di Gera lancia l'ennesima richiesta di aiuto a tutti. La situazione si è fatta realmente preoccupante. Fiumi di parole, ma nel concreto, dicono gli operai, accade nulla e non sanno più a che santo votarsi. Hanno famiglie da mantenere e mutui da pagare. Vogliono ricominciare a lavorare da subito. In questo territorio, oltre alle 32 milioni di euro di compensazioni e alle 18 milioni di euro di royalties, che sarebbero 50 milioni di euro, ci sarebbe tantissimo lavoro per tanta gente disoccupata. E appunto lancio questo messaggio per far sapere a tantissime persone che sicuramente ad oggi non sanno di questa situazione, perché tanti comuni sono in difficoltà e hanno dei problemi economici, ma il comune di Gela, grazie alla raffineria e grazie a questi soldi della compensazione, non avrebbe questi problemi. Per cui io direi alla gente di riunirci per cercare di protestare, di manifestare, per andare a recriminare i nostri diritti lavorativi. Leni doveva sapere che essendo Leni a Gela l'unica alternativa per tutto il territorio, da un giorno all'altro non poteva fare, prima creava le alternative e poi per la riconversione. E anche perché, l'ultima cosa, secondo me è ancora un blef, perché secondo me questi signori stanno aspettando la sentenza di fine giugno. Per cui è inutile che i lavori dovranno partire ad aprile, a maggio, adesso a giugno, però secondo la mia ignoranza e voglio fare l'ignorante, questi aspettano la sentenza del Tribunale di Gela. C'è anche una soluzione che potrebbe essere messa in campo dall'amministrazione comunale. Ho visto che ad esempio ad Acireale il comune si è costituito per aiutare i soffri dei debiti che si facevano quando si lavorava, però oggi non si riescono a pagare perché non c'è lavoro. Il comune si è costituito sotto questa forma o per dimezzare, addirittura anche per togliere una buona parte di debiti, dove praticamente la gente ha la possibilità anche di poter vivere, perché noi siamo tutti padri di famiglia. E che l'istituzione ci abbia un pochettino, non dico abbandonata, però sembra che vogliono lasciar morire piano piano questa realtà, ma non si può accettare questo. Io credo che i cittadini gelesi devono far venire fuori quello che è l'orgoglio, perché una volta si diceva l'orgoglio di essere gelesi, ma oggi ancora di più, perché oggi si deve combattere e solo stando insieme possiamo arrivare a ottenere un risultato positivo. Crisi industriale, riconversione dello stabilimento Eni di Gera non ancora partita, bonifica dell'impianto ISAF saltata, sono alcuni dei punti trattati nel corso dell'esecutivo macro area sud-est Sicilia della Wiltec che si è svolto nella sede gelese di via Colombo. Eni è stato ribadito, deve continuare ad investire rilanciando il piano occupazionale e la politica regionale deve stare attenta alle dinamiche industriali nell'isola. Emanuele Sorrentino, segretario generale macro area sud-est Sicilia. Vogliamo anche capire e vedere quali sono le intenzioni di Eni per quanto riguarda anche tutto il settore della chimica. Come sappiamo l'Eni vuole disfarsene della chimica, vuole passare questo importante asset industriale ad una società privata, la SK Capital che noi non ci convince perché non riteniamo che sia un'azienda capace di sviluppare questo settore così importante per i paesi e noi da questa riunione facciamo partire una serie di gridi di allarme, di iniziative e di nostre impressioni rispetto anche a tutta la politica dell'Eni in Sicilia. Stiamo parlando dell'opportunità per circa 4.000 lavoratori che viene meno grazie alle decisioni di un consiglio di amministrazione che ha ai noi optato per occuparsi più che altro di commercializzazione di petrolio e non di finire la filiera dall'estrazione alla raffinazione passando dalla chimica. Purtroppo oggi viviamo questo dramma che investirà tutta l'azienda Eni. I lavori sono stati coordinati dalla segretario generale aggiunto della Wiltec Maurizio Castania. Attraverso un nostro grido, un nostro allarme, attraverso i protocolli siglati, attraverso un accordo di programma che stenda a decollare, attraverso una politica regionale che deve far sì che anziché parlare di disoccupazione, parlare di licenziamenti, crei davvero gli sviluppi autorizzando celermente quelle che sono le attività in Sicilia, sia dell'Eni o di altri imprenditori, noi dobbiamo avere un cambio di marcia, un cambio di rotta. Siamo in un momento di stasi, non c'è quello sviluppo, non c'è quella riconversione reale e immediata che si aspettava. Siamo ormai a due anni dal protocollo, ci aspettiamo un'accelerazione, ci aspettiamo un impegno forte, sia da parte della politica sia da parte dell'Eni. Un momento di riflessione sulla condizione dei migranti dal titolo Tra cielo e mare, un lavoro didattico che ha visto coinvolti più di 300 alunni distribuiti nei palessi di Via Caviaga, Via Salonico, Via Pandino e Via Genova. Gli alunni del comprensivo Giovanni Verga hanno riflettuto sul significato della vita umana per comprendere e sollecitare un impegno collettivo per contrastare efficacemente chi osa strumentalizzare il dramma. Appuntamento questa mattina al Parco di Montelungo a Gela. Presente il Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. In questo momento stiamo vivendo un processo esodale, direi abbastanza massiccio e anche complesso, ma credo perché la nostra condizione, soprattutto di credenti, ma direi di uomini e donne, dovremmo cominciare seriamente a guardare l'altro nella condizione della fratellanza. Questo è iscritto ovviamente anche in una dimensione, direi, genetica. Noi tutti proveniamo da Adamma e quindi credo che dovremmo cominciare a coltivare sotto forma educativa questo senso di apertura doverosissimo perché significa risalire alle radici della nostra identità umana. Nei pressi della foggia del torrente Gattano, punto nevralgico del Parco di Montelungo, dove il mare si incontra con il cielo, gli alunni hanno vestito una flotta di barche di carta per ricordare i resti dei barconi approdati sulle nostre coste. Abbiamo trasmesso ai bambini un messaggio di amore, di accoglienza, proprio di riflessione sulla base anche di racconti promossi dall'Unicef. La giornata è anche dedicata e inserita nel programma della settimana dei ragazzi, dove i protagonisti sono i ragazzi ma i protagonisti sono anche le difese dei diritti di questi bambini. Non a caso abbiamo invitato e ringrazio per aver accolto l'invito ed essere qui presenti con tutti noi, la comunità dei minori, io come tu. Siamo contenti perché ancora una volta viviamo il territorio, siamo contenti perché i bambini sono tutti presenti insieme ai loro genitori e alle loro famiglie. Si parte dal seme, soltanto così le nostre piante potranno un domani fortificarsi ed essere pronti ad accogliere il diverso, che diverso non è. Successo di pubblico e di partecipanti alla terza edizione del concorso nazionale Gelas Music Città di Gela, promosso dalle associazioni Il Tempio di Apollo e giovani musicisti in collaborazione con l'Antiracket Gatano Giordano. Tre giorni intensi culminati con la cerimonia di premiazione che si è tenuta al Teatro Comunale Eschilo. L'iniziativa è stata organizzata sotto l'alto padronato del Presidente della Repubblica e con i padrocini della Regione Sicilia e del Comune. Obiettivo raggiunto è stato quello di valorizzare il ruolo formativo delle scuole medie in campo musicale, fornendo agli studenti una importante occasione di crescita attraverso il confronto con altri giovani musicisti per premiare l'impegno giovanile e stimolare lo studio della musica. 15 le scuole a indirizzo musicale che hanno preso parte alla manifestazione. Abbiamo avuto un primo premio assoluto che è stato assegnato all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Verga di Vizzini. Abbiamo anche avuto un exequo al primo posto con la scuola Ettore Romagnoli e l'orchestra di chitarre di Scicli. Un secondo premio che va a San Giovanni Gemini e alla scuola di Donna Lucata. E infine un terzo premio che viene dato a Ispica e Bageria. Il primo premio assoluto per la categoria Giovani Virtuosi va a Savitteri, un sassofinista. Il primo premio ad un batterista di alto livello nonostante abbia soltanto 15 anni. Poi ci sono stati tanti altri premi che sono stati dati ai solisti. Fra questi alcuni solisti anche di Gela abbiamo dei brevissimi violinisti, abbiamo scoperto. E sono stati anche consegnati alla scuola Quasimodo e alla scuola San Francesco Plesso Giudici. Altro obiettivo dell'iniziativa è stato quello di offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere e apprezzare Gela per il suo patrimonio storico monumentale, il suo territorio e le bellezze della Sicilia con le sue risorse turistico-culturali e enogastronomiche. Questa è stata la settimana della musica all'insegna della gioia, della convivenza e dello scambio tra i ragazzi perché si sono ritrovati anche i colleghi che hanno partecipato a vari concorsi nazionali. Questo concorso è iniziato circa quattro anni fa quando abbiamo costituito l'associazione Il Volo. Erano dei ragazzini che noi abbiamo costituito e venivano presso la nostra sede e imparavano tante cose. Sono riusciti poi attraverso la loro associazione di portare addirittura delle denunce di bullismo presso la nostra sede. Man mano questi ragazzi esperti nel campo della musica si sono aumentati, si sono progrediti, si sono diventati ancora più bravi, si sono fatte tante competizioni e adesso oggi raccogliamo i premi. Grazie a tutti.